Io e tutti i colleghi che collaborano a creare ogni mese la realizza psicosomatica, riteniamo che la salute e la gioia di vivere arrivino soltanto se noi cambiamo la mentalità e così l'ansia, la depressione, le paure, le tristezze, gli attacchi di panico, se ne possono andare soltanto se guardiamo le cose in un altro modo. Questo mese ho voluto parlarvi del nostro rapporto con gli oggetti, con le penne, con i gioielli, con i vestiti, con le cose a cui siamo abituati, con la scrivania dove depositiamo le cose per cui sentiamo un'affinità. Cito l'esempio di una signora che sul treno, dal treno deve scendere di corsa e quando arriva e sta salendo sul taxi si accorge che ha perso la collana, torna indietro e non la trova più. È la collana che le ha regalato il suo grande amore, è sposata e stava decidendo andare a vivere con questo uomo. Non vi racconto il seguito della storia, ma negli oggetti che ci regalano, gli oggetti che possediamo sono talismani per noi, non abbiamo l'idea delle fattucchiere, dei talismani, ma le cose che indossiamo sono energie con le quali creiamo un collegamento. Se perdiamo un oggetto dove c'è un legame affettivo, rischiamo di perdere anche l'amore collegato a quell'oggetto? Insomma, Jung diceva che le cose intorno a noi, le cose a cui siamo legati, i quadri, certi piatti, certe tazze che ci ha lasciato la nonno e il nonno, certe collane, certi anelli, quando li perdiamo sentiamo delle ferite profonde, come se le cose che abbiamo perduto, che ci hanno rubato, andandosene da noi si portassero via anche le persone che ce le hanno donate. Jung diceva che quando noi non abbiamo la cura dei nostri oggetti, poi finisce che gli oggetti si arrabbiano con noi. Un pensiero che allude alla magia, se uno dovesse dirmi cos'è che fa ammalare più di tutto la nostra cultura, la perdita della magia, non c'è più magia, la magia rimane nei bambini che vivono nel mondo delle fiabe. Noi non abbiamo più magia, gli amori sono scontati, le relazioni sono sempre uguali, il sesso è anche scontato. Non vediamo in ogni dono, in ogni uomo che incontriamo, un'energia misteriosa, il Dio o la Dea che sono abitate in quel corpo. L'unica fase in cui diventiamo misteriosi, siamo misteriosi e facciamo cose che sembrano folli, che sarebbero state sacre ad un Dio che i greci avrebbero chiamato Dioniso, sono le fasi dell'innamoramento, tutto il resto è routine. Allora il titolo di questo mese, Ripulire la mente, è un modo di dire, e a questo è dedicato il numero di Riza, per ricordarti che c'è qualcosa nel cervello che sta fiorendo. Vedo nei gruppi del giovedì dove vengono tante persone e lo vediamo dalle merche arrivano su Riza di cui parliamo spesso, vedo la convinzione di conoscersi, di conoscersi, molte persone credono di conoscersi e così incomincia la lotta con te stesso, perché se tu credi di essere timido, se tu credi di essere pauroso, se tu credi di essere troppo triste, se tu credi che non va bene, se tu credi che non sai amare, se tu soffri di aculazione precoce, se, 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 continui a identificarti con quel modello mentale. Allora ripulire la mente è ricordarsi che c'è qualcosa di te, di misterioso che sta fiorendo. Un signore un giorno mi ha detto, ho perso la penna che mi aveva regalato mio papà, in un attimo ho sentito la sua mancanza, ho sentito il mondo che crollava e questo dovrebbe insegnarci che a volte i dolori ci ricordano attività affettive che abbiamo sepolto, dimenticato, che ignoriamo. Non è il te stesso che conosci che conta, anzi bisogna ripulire dall'idea che ti sei fatto di te e di questo parliamo su questa rizza di questo mese. C'è un essere sconosciuto, misterioso che sta fiorendo, sta fiorendo per te, con te e di cosa ha bisogno? E che tu ti faccia da parte, che la smerti di dirti come deve essere la tua vita e come non deve essere. Sapete quando migliora la gente? Quando migliora per davvero? Quando esce dagli schemi, lì la mente si ripulisce, quando comincia a giocare, quando smette di credere che il suo destino dipende dalle cose che accadono fuori di lui. No, il destino dipende soltanto da ciò che caratterizza ciascuno di noi. Io non assomiglio a nessuno, queste sono le parole da dirsi al mattino quando ti svegli, sono diverso da tutti gli altri. E anche se ci sembra di fare le cose che fanno tutti gli altri, di essere come tutti gli altri, ripetiti costantemente che sei diverso. Ecco, molti di questi esercizi pratici sul desiderio, sullo stare con se stessi, allunano al benessere, perché vita sarebbe senza il nostro benessere psichico. Goethe diceva che nel momento in cui sorge il sole, una gioia sottile, nascosta, misteriosa, si diffonde dentro di noi, purché però ci allontaniamo dall'idea che la nostra vita dipenda dagli altri, dalle loro parole, la nostra vita dipende dal nostro destino. Quindi fa spazio a ciò che ci caratterizza, alla tua unicità. Buona lettura. Grazie a tutti.